Gli Stati Uniti approdano ai quarti di finale della Coppa America di Calcio e questo il dato che emerge dalla ottava giornata della prestigiosa competizione calcistica nord-sud americana. La formazione a stelle strisce guidata da Jurgen Kliswan dopo la sconfitta subita all'esordio vince con il ponteggio di 1-0 contro il Paraguay grazie alla rete firmata al 27esimo del primo tempo dall'intramontabile Dempsey. E conquista la testa del Girone A a spese della Colombia che è stata sconfitta dalla Costa Rica con il ponteggio di 3-2 al termine di una partita intensa sin dai primi minuti. Il vantaggio costaricense arriva al secondo minuto con Venegas, il pareggio colombiano con Fabra. Lo stesso poi commette l'autorete che consente alla Costa Rica di riportarsi in vantaggio e poi di avere il terzo gol nel secondo tempo con Borg a siglare il secondo gol colombiano. La classifica del gruppo A dopo la seconda giornata vede Stati Uniti-Colombia a quota 6 punti, Costa Rica 4 e Paraguay ad un punto. Mimmo Siena, Speciale News.